Super! Insieme! Eh sì, eh sì, siamo noi metallo meccanici, siamo mitici e fanatici per scaldare i vostri cuori. Ma sì, ma sì, questa notte è satisfinissima, sarà magica se vuoi, se vuoi, siamo quelli del pop swing. Ma sì, ma sì, siamo noi metallo meccanici, siamo magici e lunatici, siamo quelli del pop swing. Siamo quelli del pop swing, siamo quelli del pop swing, siamo quelli del pop swing. Quelli del pop swing, grazie, grazie. I metal meccanici! Allora ragazzi, io vi lascio accomodare, ci vediamo dopo perché avete anche da proporre dei brani internazionali, diciamo. Scusa un attimo, posso fare una cosa? Volevo fare una cosa con il pubblico. Allora, tutti con le mani vogliamo fare lo stacchetto di Sanremo, me lo faremo noi dal vivo, chiaramente. Sulle mani, forza! Forza, su, su, tutti insieme, forza! One, two, three, four! Perché Sanremo è Sanremo! Grazie! I metal meccanici, grazie ragazzi, simpaticissimi! E allora noi andiamo avanti perché adesso sta arrivando un altro grande artista che anche lui, insomma, ha calcato palchi importanti in Rai e si è fatto sentire per i suoi grandi doti canore. Lo chiamiamo subito su questo palco, lui si chiama Gaetano Labalestra! Un grande applauso! Eccolo qui, ciao Gaetano! Benvenuto! E allora, bene, tutto bene. Facciamo un passo avanti.